Post della discordia volano gli stracci tra Tome e Iorio, il commissario ad acta minaccia querele e dice non accetto consigli da chi ha sfasciato la sanità molisana, l'ex presidente mi fa ridere, siamo alla frutta, a Campomarino i funerali di Sara Gentile, la 45enne struncata dal coronavirus perdita che lascia a profondo vuoto le parole del sindaco Silvestri a Termoli, domani l'ultimo saluto a Mimmo Farina, SOS anestesisti, l'ASRE MC di prova, nuova procedura per assumere 23 professionisti al Santimoteo, intanto ultimo giorno di lavoro per il dottor Molinari, non si ferma lo stop, travolge una ragazza sullo scooter e poi fugge senza prestarle soccorso, pirata della strada incastrato dalla polizia di Sera. Il 20 novembre l'associazione Viva Vittoria in collaborazione con la fondazione Conad e con l'associazione Libera Luna installerà in piazza Vittoria Emanuele a Campobasso un'opera relazionale condivisa in previsione della giornata per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. E infine lo sport, il calcio domani Campobasso 1919, Sernia-Salleucio, match che vale una stagione De Bellis, non è facile per noi ma neanche per loro, Franchi suona la carica per il Rosso-Blu. Bentrovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di Campobasso, in apertura ci occupiamo, torniamo ad occuparci del POS della discordia, volano gli stracci tra Donato Toma e Michele Iorio, il commissario ad acta minaccia querele e dice non accetto consigli da chi ha sfasciato la sanità molisana. Dunque ascoltiamo Toma subito dopo, ascolteremo anche Michele Iorio. Toma. Se ne discute da giorni e ne siamo sicuri, se ne continuerà a discutere per molto altro tempo, il nuovo programma operativo sanitario 2022-2024 anima il dibattito politico. A gettare benzina sul fuoco delle polemiche è stato l'ex commissario alla sanità Michele Iorio che ha chiesto le dimissioni di Donato Toma qualora quest'ultimo non dovesse ritirare il POS inviato ai ministeri che siedono al tavolo tecnico. Non commento perché ci sono argomentazioni che meritano commento e sono le critiche che vari soggetti hanno già fatto pervenire su quel piano e altre che hanno una strumentalità politica derivante dal fatto che si hanno ambizioni personali di sostituire la mia persona. Toma pur non citandolo mai esplicitamente non accetta consigli da Iorio che dice era il dominus della sanità molisana nel periodo in cui il buco finanziario del comparto è diventato una voragine. In sostanza non accetta consigli da chi, aggiunge, ha sfasciato la sanità molisana. Non è ammissibile la critica fine a se stessa come un personaggio attualmente ha fatto allarmando la cittadinanza, infatti i miei legali hanno già tutto per le considerazioni per quello che ne seguirà, personaggi che hanno generato quella che è stata la catastrofe sanitaria degli ultimi anni, non catastrofe sanitaria nel merito ma nel piano di rientro e nel commissariamento. Ricordiamo che chi ha generato il commissariamento non è sottoscritto e ricordiamo anche che c'è ancora gente che va dando consigli su una sanità che ha contribuito notevolmente a danneggiare. Dunque per il commissario ad acta le critiche, quelle costruttive e non strumentali, sono legittime e a tal proposito annuncia che proprio per accelerare i tempi in funzione di un'eventuale revisione del POS sarà adottato dalla struttura commissariale un nuovo provvedimento ufficiale con il quale si concedono dieci giorni di tempo a chi vorrà osservare il documento. Dieci giorni di tempo per le osservazioni che noi rimetteremo ai tavoli tecnici. Ricordo che il piano operativo della sanità è all'attenzione dei ministeri per la cosiddetta non preventiva approvazione come qualcuno dice erroneamente ma la preventiva valutazione cioè ci sarà una valutazione, vediamo cosa genererà, quali osservazioni ministeriali genereranno la valutazione perché nel piano ci sono alcune forzature che ho per la verità ritrovato come apprezzamento in alcuni stakeholders, altri hanno sottolineato critiche ad altre questioni ma le critiche che siano costruttive sono giuste, è bene che arrivino. Ed ora la replica di Michele Iorio, riderei se l'argomento non fosse maledettamente serio ormai siamo alla frutta, ha dichiarato l'ex commissario che poi aggiunge quando il documento arriverà a Roma nella capitale si faranno grasse risate e sul POS non esclude di presentare la sfiducia in aula Nicola De Santis Se non fosse un fatto, un argomento molto serio mi metterei a ridere insomma io credo che ormai siamo arrivati veramente alla frutta Per Michele Iorio il POS genera allarme sociale su questa affermazione Donato Toma valuta se ci siano gli estremi per querelare Iorio La storia d'amore tra l'ex presidente e l'attuale governatore durata come un fiocco di neve in un deserto potrebbe dunque avere degli strascichi in tribunale Il casus belli, l'ennesimo, è rappresentato dal POS Stella Polare della Sanità Molisana per i prossimi tre anni Il presidente Toma sta esagerando nel ritenersi al di sopra di tutto e di tutti non ascolta assolutamente nessuno, agisce spesso anche fuori dalla norma legislativa Io penso che dopo aver letto questo POS che non è un POS il piano operativo, detto così molto semplicemente dovrebbe prevedere la struttura e la riorganizzazione tra l'altro degli ospedali Bene, non si parla di ospedali, non si parla di posti letto, non si parla di reparti non si parla di come verrà organizzata la sanità ma si fa un POS unicamente per dire una serie di ovvietà che si dicono da anni e cioè l'analisi fa bisogno, la situazione del Molise una serie di annunci di cosa farò, faremo, vedremo lo si fa esclusivamente per fare tre cose per chiudere l'emodinamica a Isernia, per stabilire per sempre la morte del punto nascita di Termoli e per mettere in pericolo la vita dei molisani o di chi passa per il Molise se dovesse avere un accidente vascolare cerebrale questi sono i tre cardini di questo piano ora mi chiedo, è possibile che si programmi per il futuro questa sanità nel Molise? io penso proprio di no Toma assicura che è pronto a recepire critiche, osservazioni, consigli prima di presentare il piano a Roma ciò che ripudia con decisione sono le polemiche strumentali ma io mi vergognerei perché insomma credo che a Roma si faranno parecchie risate soprattutto i tecnici ministeriali quando sentono che qui invece di aprire un confronto con le istituzioni con i sindacati, con gli interessati, i comitati qui si approva o si manda all'approvazione o alla condivisione come preferisce dire il commissario presidente del ministero un documento e poi si dice chi vuole può fare ricorso può fare le proprie osservazioni è una formula credo ridicola credo che la parola sia anche una parola addorcita per evitare le denunce naturalmente ma che farà ridere molti, soprattutto a Roma restiamo sul post chiederemo formalmente al sindaco di Campobasso di promuovere una mobilitazione di tutti gli amministratori locali molisani affinché si chieda ai ministri che verranno a breve incaricati la deroga alla normativa Balduzzi e la modifica immediata di un atto che rappresenta l'ulteriore grave colpo alla sanità pubblica molisana che determina la gravissima violazione del diritto alla vita prima ancora che alla salute dei cittadini è quanto anticipato in una nota dai consiglieri comunali di minoranza del centro-sinistra Alessandra Salvatore, Giose Trivisonno, Bibiana Chierchia e Antonio Battista in relazione al nuovo programma operativo sanitario predisposto dalla struttura commissariale al cui vertice c'è il presidente della regione donato Toma a Campomarino ieri pomeriggio i funerali di Sara Gentile la 45enne stroncata dal coronavirus perdita immensa che lascia profondo vuoto le parole del sindaco Pietro Donato Silvestri l'improvvisa scomparsa di Sara Gentile rappresenta per la nostra comunità una perdita immensa che lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l'onore e il privilegio di conoscere il suo sorriso la sua gentilezza e la purezza dei suoi sentimenti è il commosso addio del sindaco di Campomarino Pietro Donato Silvestri alla 45enne stroncata dal coronavirus deceduta mercoledì sera al Cardarelli dove era ricoverata nel reparto di terapia intensiva il suo impegno sociale ha continuato il primo cittadino la sua predisposizione nell'aiutare il prossimo con particolare riferimento e più deboli resteranno impressi in modo indelebile nella nostra mente e nel nostro cuore ciò che Sara ha seminato per noi in questi anni contribuirà a rendere migliore il posto in cui noi tutti viviamo e che lei amava profondamente i funerali di Sara ieri pomeriggio nella chiesa del Santo Spirito in una Campomarino attonita all'uscita del feretro dalla chiesa tanti palloncini bianchi ed il dolore inconsolabile di chi la conosceva Sara impegnata nel sociale e sempre accanto agli ultimi era ben voluta da tutti accadono cose inspiegabili per la nostra mente come se tutto ci sfuggisse di mano improvvisamente le parole dell'ex parlamentare Giusy Occhionero mi affido alla fede per cogliere le ragioni del furto di una vita preziosa per tutti noi Sara è arrivata al Cardarelli mercoledì mattina in condizioni disperate con gravi complicazioni vascolari preesistenti al ricovero hanno fatto sapere dal reparto gravi complicazioni vascolari legate al coronavirus nonostante le fossero state inoculate tre dosi di vaccino il nesso probabilmente c'è ha spiegato il primario della rianimazione Romeo Flocco ed ora i numeri dell'ultimo bollettino diffuso dall'ASREM numeri che si riferiscono ovviamente al coronavirus un decesso appunto alla 45enne di Campo Marino tre ricoveri in malattia infettiva nove ide genti al Cardarelli di Campo Basso 143 invece i nuovi positivi 12 al molecolare 131 all'antigenico su 640 esami processati con positività al 22,3% 260 i guariti 4.149 molisani alle prese con il virus SOS personale nelle strutture ospedaliere regionali dunque restiamo sul tema della sanità continuano i problemi al Santimoteo di Termoli da domani il dottor Molinari lascia il posto nel reparto di ginecologia ed ostetricia intanto continua il contenzioso tra la società Fenice ed ASREM sui medici di libera professione Alessandro Adamo Sanità carenza di pediatri negli ospedali molisani e il paracadute della disponibilità di medici di libera professione che vengono chiamati per colmare i tanti vuoti in corsia tanti troppi concorsi andati deserti in questi anni ma sta di fatto che senza questo supporto esterno non solo i reparti del Santimoteo Veneziale e Cardarelli rischierebbero la chiusura ma a cascata il cortocircuito impatterebbe anche sui punti nascita il caso limite proprio lo scorso sabato a Termoli dove un pediatra non giunto per il cambio delle 14 ha costretto la collega a restare il servizio per il pomeriggio ma perché accadono questi episodi la risposta è insita nel contenzioso che la società cooperativa la Fenice ha instaurato con Asrem che a dire della compagine che garantisce somministre pediatri di libera professione non onorerebbe la convenzione stipulata in poche parole non liquiderebbe le somme dovute e in tempi accettabili per i mesi di marzo aprile maggio giugno e settembre 2022 l'Asrem ha rifiutato il pagamento delle prestazioni mediche fornite dalla cooperativa quando tali periodi di servizio sono stati espressamente richiesti dai dirigenti medici dell'ente sanitario i quali hanno anche certificato il corretto svolgimento delle prestazioni attualmente la cooperativa la Fenice vanta nei confronti dell'Asrem un credito di circa 500 mila euro per prestazioni effettuate che l'ente ha rifiutato di pagare dopo lo svolgimento delle stesse ciò nonostante la società la Fenice sta riuscendo a garantire la continuità del servizio e anticipa nell'interesse della collettività il pagamento dei costi del servizio e dei medici impegnati nonostante la mancanza di collaborazione dell'Asrem che non riconosce l'attività svolta dai medici da qui la comunicazione dei medici alla direzione Asrem se non si provvederà a riconoscere le dovute aspettanze saranno costretti ad interrompere il servizio da domani 15 ottobre a questa notizia se ne aggiunge un'altra e si perché il dottor Berardino Molinari dopo 33 anni di servizio all'ospedale Santimotio di Termoli di cui gli ultimi 11 come direttore di ostetricia e ginecologia lascia il posto per lui ultimo giorno di lavoro al punto nascite di Termoli il provvedimento datato l'8 agosto scorso è quello che accoglie le dimissioni presentate da Molinari il 15 luglio e sancisce che oggi venerdì 14 ottobre 2022 è l'ultimo giorno in servizio del ginecologo la cui mansione sarà vacante da domani sabato 15 ottobre la decisione del dottor Molinari dettata dalla progressiva parabola vissuta dal punto nascite di Termoli con carenze di organico e decreto Balduzzi che sta portando il reparto alla chiusura chiusura tra l'altro rimarcata anche dalla bozza del post 2022-2024 pubblicata dal commissario ad acta Donato Toma ed è entrato adesso nella fase delle osservazioni restiamo sull'emergenza personale perché nonostante le procedure concursuali espletate dall'ASREM non è stato ancora possibile coprire i 23 posti per dirigenti medici della disciplina di anestesia e rianimazione da impiegare nelle varie strutture dell'azienda sanitaria regionale quanto emerge dai contenuti della delibera firma del direttore generale Oreste Florenzano con la quale è stata avviata una nuova procedura finalizzata all'assunzione a tempo determinato di 23 medici specializzati appunto in anestesia e rianimazione la vita non è tolta ma trasformata Mimmo vive non ti chiediamo perché ce l'hai tolto ti ringraziamo per avercelo dato con queste parole il fratello Corrado la cugnata Marta Maria la nipote Rebecca Sofia le zie Camilla Renata Angioletta lo zio Massimo e la cugina Gaia ricordano l'amato Domenico Farina che a soli 50 anni è stato strappato ai loro affetti dalle conseguenze del tragico incidente avvenuto lo scorso 13 maggio l'autopsia è stata effettuata ieri pomeriggio nella casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo subito dopo la procura restituite il feretro alla famiglia disponendo il lulaosta alla sepoltura i funerali avranno luogo domani mattina alle 10 nella chiesa di Sant'Antonio Donna investita a Montenero di Bisaccia questa mattina intorno alle 11 in via Argentieri la signora è stata investita nei pressi della Rotonda le sue condizioni non sarebbero gravi sul posto del 118 Molise con la postazione di Montenero e di volontari della misericordia di Termoli la donna è stata trasportata al Santimoteo per gli accertamenti del caso non si ferma allo stop travolgendo una ragazza sullo scooter poi fugge senza prestare soccorso alla persona ferita dopo meticolose indagini agenti della questura di Isernia sono riusciti a risalire all'automobilista che ha provocato l'incidente si tratta di un uomo di mezza età la cui patente era scaduta da tempo è stato denunciato per omissione di soccorso i poliziotti sono risaliti all'identità dell'uomo attraverso le telecamere della zona ma soprattutto attraverso la testimonianza di decine di cittadini che hanno assistito alla scena segnalando la targa della vettura alle forze dell'ordine restiamo a Isernia perché carabiniere e polizia in un'operazione congiunta hanno trasferito in carcere dal proprio domicilio dove si trovava agli arresti un Isernino giovanissimo con numerosi precedenti penali ad agosto era stato arrestato dopo l'ondata di furti in città ai danni di numerose esercizi commerciali il giudice ha disposto la sostituzione dei domiciliari con la custodia cautelare in carcere avendo rilevato una serie di violazioni imposte dalla precedente misura infatti la mobile ha sorpreso il giovane che nonostante fosse gli arresti domiciliari si trovava fuori dalla propria abitazione in compagnia di una terza persona che alla vista del personale della polizia di stato è fuggita nel corso della successiva perquisizione sono state rinvenute diverse dosi di ascisce occultate nella camera da letto del soggetto l'arrestato è stato tradotto dai militari dell'arma e dal personale della polizia di stato presso il carcere di Ponte San Leonardo cambiamo argomento torniamo ad occuparci del caro energia che complica la vita di famiglie ed imprese ci riferisce tutto Pasquale Damiani bollette triplicate attività commerciali sull'astrico dopo due anni di criticità legati al covid ci si mette anche il caro energia per molte attività di Sernia sarà necessario capire come si farà ad arrivare alla primavera senza spegnere le luci la bolletta per l'energia elettrica è triplicata così non si sa se si arriverà a Natale qui è nata una vera e propria speculazione qualcuno dovrebbe intervenire prima che sia troppo tardi questo grido di dolore di tanti titolari di attività commerciali sono preoccupati anche i titolari delle strutture alberghiere e dei bnb che stanno lavorando per superare il turismo mordi e fuggi i Sernia e il suo circondario hanno bisogno non di un turismo casuale le persone che vengono a Sernia hanno bisogno di pianificare il viaggio e occorre essere in grado di indirizzare i flussi e di valorizzare le bellezze pianificando meglio la presenza nel capoluogo dopo due anni di pandemia il settore ha ripreso vigore a Sernia stanno arrivando molti turisti ma per la piccola e media industria privata le bollette sono levitate anche del 400% il settore non può difendersi da rincari aumentando il prezzo delle camere le stanze bloccate dai tuor per etero risalenti a un anno fa non possono più reggere i prezzi purtroppo non si possono aumentare e si rischia la chiusura i titolari di alberghi MB&B sono in ansia non si tratta di alberghi di lusso hanno alzato il prezzo del 10% non oltre perché sarebbe insostenibile anche il comune di Isernia potrebbe mettere a punto un piano locale contro il caro energia per le prossime festività natalizie il sindaco Castratano potrebbe anche ridurre la temperatura nell'edificio comunale e anche l'illuminazione stradale di almeno un'ora i lampioni potrebbero rimanere accesi un'ora in meno e questo consentirebbe al comune di risparmiare bei soldi il caro energia si fa sentire prepotentemente anche a Isernia che potrebbe limitare l'accensione delle luminarie di Natale a Campobasso il prossimo 20 novembre l'associazione Viva Vittoria in collaborazione con la fondazione Conad e con l'associazione Libera Luna Onlus installerà in piazza Vittoria Emanuele un'opera relazionale condivisa in previsione della giornata per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne ci riferisce tutto Alessandro Adamo nel suo servizio sentite Il prossimo 20 novembre in piazza Vittoria Emanuele Secondo a Campobasso grande installazione di un'opera relazionale condivisa per dire no alla violenza sulle donne la fondazione Conad ETS sostiene l'associazione Viva Vittoria ODV essere al fianco delle realtà che ogni giorno lottano contro la violenza di genere sostenendo le donne e offrendo loro nuove opportunità è tra le prime priorità della fondazione Conad ETS entro profit del terzo settore costituito da Conad per valorizzare l'impegno di cooperative e soci a sostegno della comunità L'idea è stata quella di cercare di far quadrato su quello che già facciamo da 60 anni infatti i soci del territorio in maniera autonoma già aiutano le associazioni che stando sul territorio la fondazione non fa altro che fare sintesi di tutte le iniziative che già i soci fanno per cercare di fare cose più rilevanti e più visibili al mondo della nostra clientela Viva Vittoria realizza queste opere d'arte condivise coinvolgendo tutte le comunità nelle varie piazze d'Italia e quindi ci sembrava assolutamente in linea che i soci e le cooperative di tutta Italia si mettessero al servizio di Viva Vittoria nel momento in cui Viva Vittoria decideva di andare in una determinata piazza a Campobasso in piazza Vittorio Emanuele il prossimo 20 novembre l'installazione Viva Vittoria in vista della giornata per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne il Comune di Campobasso ha dato e patrocina questa iniziativa come a tutte le iniziative che tutelano i più deboli stiamo invitando tutti i cittadini a partecipare a questa manifestazione realizzando questa piccola copertina che poi il 20 novembre dovrà essere portata in piazza Viva Vittoria con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne e aiutare le vittime di questi abusi realizza nelle piazze italiane opere di relazione condivisa alle persone viene chiesto di realizzare un quadrato in maglia 50x50 realizzato a ferio a uncinetto che rappresenta il proprio no alla violenza sulle donne i quadrati prodotti vengono successivamente cuciti con un filo rosso per creare coperte che coprono la piazza di una città dando così vita all'installazione le coperte poi sono oggetto di una raccolta fondi a sostegno di associazioni contro la violenza in questa iniziativa Conad raccoglierà nei punti vendita di Campobasso i quadrati di maglia che copriranno piazza Vittorio Emanuele Viva Vittoria grazie all'impegno di 160.000 NITERS dal 2015 ad oggi ha raccolto oltre 690.000 euro attraverso la raccolta fondi legata alla produzione di coperte che oggi consentono di aiutare concretamente 35 centri antiviolenza Libera Luna ha deciso di portare in Molise questo progetto perché guardando osservando le altre piazze che sono state colorate da queste coperte realizzate dalle persone di quei territori ci è piaciuto così tanto questo colore questa forza tutti insieme nel dire no alla violenza che abbiamo deciso dall'8 di marzo di quest'anno di portare anche in Molise questo progetto quindi insieme ad associazioni persone donne uomini stiamo raccogliendo i quadrati per poter realizzare queste coperte che verranno composte con 4 quadrati e il 20 novembre tutti insieme diremo no alla violenza bene ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo previsioni del tempo per sabato 15 ottobre un graduale aumento della pressione atmosferica in sede mediterranea favorirà un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutto il Molise venti deboli dei quadranti nord orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali mare poco mosso diamo uno sguardo adesso alle temperature campo basso sotto la minima venti la massima Isernia 10,21 Termoli 16,21 Venafro 12,23 gradi davvero tutto con questa edizione restate con noi tra pochissimo un'ampia pagina sportiva lo sport iniziamo con il calcio di eccellenza nel weekend è in programma la sesta giornata caratterizzata dal big match tra il campo basso 1919 e l'Isernia in campo domani fischio d'inizio alle 15 il primo di tre anticipi gli altri due Campomarino Boiano e Venafro polisportiva gamba tesa le altre gare si disputeranno regolarmente domenica pomeriggio e ora ascoltiamo l'allenatore dell'Isernia San Leucio Pierluigi De Bellis intervenuto ieri sera durante la trasmissione Molise Sport De Bellis ha detto derby difficile per noi ma anche per il campo basso sentite c'è attesa per questa partita ecco la parte nostra come penso dalla parte del campo basso sappiamo tutti che è la settima giornata non è che si decide sabato il campionato delle due squadre però sicuramente è una partita che manca in regione da un po' di tempo per cui l'entusiasmo probabilmente sarà soprattutto sugli spalti l'impegno va affrontato con serenità vanno rispettate va rispettato l'impegno che le tifoserie metteranno in questo derby e uscire insomma con l'idea di aver dato il massimo perché poi di fondo non si vuole mai perdere figuratevi chi vuole perdere un derby sabato andremo a giocare su un campo importante per storicità ma di una storicità recentissima per cui non sarà facile però dall'altra parte non sarà facile nemmeno per loro perché lo stadio è un come dire un appendice importante per cui i giocatori dovranno anche loro gestire l'attenzione che può portare le entrate in quel campo considerando che l'anno scorso sono stati celebrati i fasti di un cambiato molto più importante ho chiesto con l'assoluta serenità alla squadra di giocare per quanto possibile per la terra di essere quelli che siamo stati nell'ultimo anno e mezzo poi se sono più bravi insomma molto non possiamo fare però pretendo che ci sia assoluta serenità di giocare un calcio importante noi possiamo dire che sicuramente la squadra ci metterà il massimo scenderemo sicuramente in campo nel rispetto dell'avversario perché proprio oggi abbiamo terminato l'allenamento cercando di sviscerare quello che può essere la partita di sabato quindi nel rispetto dell'avversario scenderemo in campo per cercare di fare il bottino pieno speriamo anche che sia una bella cornice di pubblico Pierluigi e questo me lo auguro perché diciamo penso che la stessa Campobasso ha fatto salti mortali per ottenere Selvaviana proprio per per far sì che questa quella di sabato sia una giornata soprattutto di festa sugli spatti per quanto ci sarà sicuramente come dire attrito tra tra le tifose dico per normale che sia sperando che rimanga sempre tutto nella buona educazione però credo che il Campobasso ha fatto questo grosso sforzo organizzativo proprio per far sì che sabato ci sia più gente possibile ad assistere questa partita mettendo così più tensione ai giocatori che scenderanno in campo Ed ora il Campobasso 1919 con il giovane attaccante Franchi che suona la carica gara fondamentale ha detto anche lui ospite di Franco Presutti Sappiamo l'importanza della gara io sono tranquillo sto vivendo la settimana in maniera tranquilla e aspetto soltanto sabato perché so che siamo una buona squadra sicuramente ci servirà anche a noi per capire a che punto siamo affrontare magari un'avversaria di assoluto valore come è Lisernia su quel punto di vista per il momento abbiamo dimostrato di essere superiori alle altre squadre e spero lo dimostreremo anche sabato io posso agganciare giusto a quello che ha detto il mister che come sarà una difficoltà per loro lo potrà essere anche per noi il campo perché comunque non ci siamo mai allenati sull'erba non abbiamo mai visto il campo non sappiamo in che condizioni sia io spero per noi visto che noi comunque siamo una squadra che gioca abbastanza da palla a terra sia in buone condizioni però non sappiamo niente quindi è un punto interrogativo di sicuro loro sono più abituati perché giocano in casa sull'erba ma non sarà sicuramente quello che a noi creerà più di tanti problemi però comunque è sempre un punto interrogativo queste sono le partite che si caricano da sole poi caricarle troppo magari mette solo pressione di cui non ce n'è bisogno le motivazioni e la carica e queste partite vengono da sole poi come ha detto prima giustamente Tonino noi siamo una squadra creata in sei giorni non abbiamo fatto la preparazione molti di noi quindi abbiamo piano piano acquisito una forma migliore ma non stiamo al 100% e sicuramente fare un mese e mezzo di preparazione mattina e pomeriggio e arrivarsi tutti insieme con la squadra ti danno qualcosa in più è inevitabile quindi da una parte sarebbe stato più facile tra virgolette magari incontrarla tra dieci giornate piuttosto che alla sesta però noi abbiamo preparato la settimana come tutte le altre partite siamo tranquilli e non vediamo l'ora sabato di giocare questo match sesta giornata anche nel torneo di promozione anche qui gli anticipi sono tre a Esernia Fraterna M Juvenes Baranello Atletico San Pietro in Valle Donche Il Sagnone Polisportiva Fortore le altre gare si giocheranno regolarmente domenica con fischio d'inizio alle ore 15 Lasciamo il calcio occupiamoci di basket basket di serie A1 femminile perché la Magnolia Campobasso sarà in campo domenica in casa palla 2 alle 18 contro Ragusa domani invece gli incontri San Giovanni Valdarno Faenza e Brescia sesto San Giovanni le altre gare invece domenica restiamo sul basket ma vediamo quello di C Gold seconda giornata con in campo domani la New Fortitudo Isernia a Roseto palla a 2 alle 20 e invece domenica scenderà in campo l'Air Termoli contro il Magic Chieti alle 18 Lasciamo il basket occupiamoci di Futsal di serie A2 il girone B con l'impegno esterno per il circolo la nebbia Cus Molise a Cesena fischio di inizio ore 17 le altre gare si giocheranno tutte domani pomeriggio e dunque altra trasferta particolarmente intricata per il circolo la nebbia Cus Molise che dopo il rinvio del match interno di sabato scorso inizia domani da Cesena calcio di inizio le 17 un ciclo di tre confronti nell'arco di otto giorni con mercoledì alle 21 il match dei 32esimi di Coppa della divisione contro l'Ecosity Genzano e poi sabato successivo il match interno contro la Versa parte al Palahunimol valido per la quarta giornata del girone B di serie A2 andiamo nella serie B del Futsal con il raggruppamento F con la trasferta dello Sporting Venafro domani con fischio d'inizio alle 15 sul campo di Napoli Barrese e dunque dopo due settimane dal confronto con il Casa Giove torna sul parquet lo Sporting Venafro che va a sfidare possiamo togliere la schermata e vedere un po' di immagini a San Sebastiano il Vesuvio il Napoli Barrese altra formazione neopromossa nel torneo di cadetteria i partenopei hanno al momento quattro punti all'attivo e dal canto loro i bianconeri forti del lavoro tecnico fatto con mister Rizzo ed atletico con il preparatore Walter Primavera vogliono smuovere la loro classifica chiudiamo con la Palavolo iniziamo con la pallavolo maschile e dunque con la seconda giornata della serie B il raggruppamento G con il match in programma domani primo servizio alle 18 tra lo Spike Devils Campobasso e Casal Bertone le altre gare si giocheranno tutte nel pomeriggio di domani e per lo Spike Devils Campobasso c'è l'obiettivo riscatto i rosso-blu dopo lo stop al tie-break rimediato ad Anguillara Sabazia ricevono ora la visita del Casalbertone si è stetto altrettanto uscito dall'esordio con una sconfitta con l'intento di prendersi un successo pieno nel nuovo scenario della palestra del Pertini Montini squadra in campo domani sera con primo servizio fissato alle ore 18 con tanta voglia di conquistare la vittoria e chiudiamo come vi dicevo con la pallavolo femminile con la seconda giornata della serie B2 il raggruppamento L con l'europea 92 Isegna che sarà in campo domani pomeriggio primo servizio alle 18 con Sportilia Bisceglie e le altre gare si giocheranno domani pomeriggio fatta eccezione per Cerignola Teramo e Francavilla Chieti che andranno in scena domenica e dunque ci sarà l'esordio interno per la nuova stagione per l'europea 92 Isernia forti del successo a Cutruffiano le Blue Fucsia vogliono centrare il bis ospitando la Sportilia Bisceglie il tecnico Scandurra dovrà ancora fare a meno delle infortunate Sara Anselmo ed Erminia Sessa e proverà a bissare quello che è stato l'esplode dell'esordio sul confronto primo servizio come abbiamo anche detto già domani alle ore 18 Bene ed è tutto anche con la pagina sportiva grazie per aver prestato ascolto buona continuazione con la nostra programmazione arrivederci arrivederci grazie a tutti per aver guardato l'esplodio l'esplodio